Perché basta, voglio sentire addosso l'amore che c'è Tutta la vita non basta, per dirigerla da prova di te Dimmi l'amore, che non vivo se non sto vicino a te Tutta la vita per te, perché tu sei tutta la moglie Amor, abida d'unsemi da vidami Gammana ma bu sembra gammana, basse basse mi vurttu gutte Vardı bibir istantore, final durdumur e spiri Rindevasi dui vayi muri, tu non se pahalı Lanim io guardi divanimi guardi ne de Ma sarice le cose più belle Eh no, aspetta, 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 ma come mi ha detto lì? Ma io come posso immaginare? Ma sono sei anni che ho chiuso la foto Ma bebe sta a fuori? No, no, bebe sta a fuori, da notare che sta a fuori Ma io come sai, scusate Va bene, aspetta, ma come sei chiusa la foto Ma come sei chiusa la foto? Sera bello, saputo pure che ho passato Aspetta, un po' che pace E lasciamolo poco, ha caldo pure un poco per siano Ma guardi, chiesti di checchi, va bene Non c'è comunque chiuso Ma lì sei con un scassinatore seriano proprio Ma mia, lupendo Noi dai, proviamo la roba. C'è ma la caglia non so che sta a stare un bene, ora un video. Pensavate che fosse finita la mia... aspettate un momento... Uè, uè, stanno passando in mano. Pensavate fosse finita la mia routine del marciapiede? Ebbene no. Stamattina è andata a voto in coppa del marciapiede. Buongiorno. Ieri ho già dato un trucco a fare. Poi vi dico, poi vi dico... C'è un telefono trem perché sto camminando. Ah, io stavo dando un bel 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 bel. Anche i capelli erano belli. Mi ha già messo, vedete pure il trucco, vedete? Mi ha già inguacciato poco. Stamattina vado a lavorare con uno spirito diverso. Non è successo niente, non ho già visto nessuno. Quindi... Non pensate mica... Lasso di giove a fresca scorsa. No. E niente... Stamattina è venerdì. Vado a lavorare, se domani mi va... Ma per gli ferie... Sono le ultime battute. Mi sono messo pure un po' di profumo. Mi sono messo tutta bella questa stimatella. Mi sono messo pure un bel pantalone che non mettevo da parecchio perché mi andava un po' strettino. Invece mi va... Zambi cavallo. Zambi elefante. Insomma non mi ricordo come si diceva anni fa. La moda ritorna sempre. E niente... Ieri mi è dispiaciuto non essere di vostra compagnia. O voi della mia. Però insomma non sono stata in casa. Assolutamente no. E questo è quanto? E' una bella giornata. Un po' di quell'ora che aveva questa bella stagione. Proprio a mettere tutti quelli vestiti scivolando... Chi è questo? Certo che a mattina ci stanno certi personaggi. Mamma mia. Proprio... Non da paura ma quasi. Gente strana. Come è me per esempio stammatina. Ma allora vado a lavorare. Ci sentiamo più tardi. Il mio motto è sempre va va. Non c'è nessuno. Ma proprio nessuno. Vedete? Sto anch'io. Marciapier. E non c'è nessuno. Quindi... Non cambia nulla. Vi mando un bacio. Vi voglio bene. E ci sentiamo più avanti. E va va. Sei contenta del regalo che ti ho fatto per la festa della mamma? Qual è il regalo? Ti ho riportato tuo figlio. Ah sì. Ti piace? Mi sono bella. Grazie. Non voglio rifare il regalo. Cioè non dici mai no ho portato il no. Cioè non puoi. Non puoi proprio. Glielo lascio. Buongiorno. Che è successo? Buongiorno. Sto l'altro cosa sto 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 stamattina. Buon sabato innanzi tutto. Eh. Buongiorno. Buongiorno nonna. Che è successo stamattina? Ma stasera c'era successo niente. Certo? Ah buono buono. Però queste cose che stanno qui non lo vede. È così. È così. È così. Ah questa è la cosa storta che va tutto su. È perché stanno qui non lo vede. È così. È così. Oh fermi! Si è fatto più grosso. Oggi un pezzerillo. Secondo me si è fatto più pezzerillo. Non è notato. Secondo me ti sono sui cilla. È così. È così. È così. È fatto buono. Ah no. Ah no. Oggi è sabato. Eh. È diventato domenica. È già corre. Eh. Spero che potrebbe oggi. Ando, magari, a diventare la cosa. È mettere una coppa nata. Forza. Forza. Non sto sui mangiare. Buongiorno. Napoli. Forza Michele. Eh. E allora forza Michele. Forza Michele. Forza Michele. Forza. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno e pace. Mua. Mua. Con un bello pace. Mua. Mua. E buona domenica a tutti. Buona festa della mamma. A tutte le mamme del mondo. E pure a tutte le mamme del mondo. Che non ci sono più che stanno nel cielo. Ma che guardano e ci stanno vicino. Perchè la mamma è una sola. Chi tiene mamma non c'è. Ok. E' solo la mamma che voglio consigliere pure. Ora è. E noi arriviamo a posto. Comunque viaggio. La buona domenica. La buona domenica. Io non sto a casa mia. Non posso dire dove sto. Devo partire. Devo partire. Tengo tre venti questa giornata. Signori. Buona sera. Va già a riuscire una cosa importante. Il ristorante che sono andato prima. Non aveva. Nola. Ma era Castelbottone. Ora sono a Nola. E' la comunione di Gianluca. E sono a Nola. Gli ammucini. Come sono innamorati sui ristoranti. Mamma. Mamma. Nessite via. Nessite via. Nessite via. Nessite via. Nessite via. Ok. Signore. Signore. In questo magnifico evento. Abbiamo un sfide d'eccezione. Un personaggio femminile. Che ha scopoato il mondo di social. Facendo divertire milioni di persone. Entrando così immaginamente nei cuori della gente. Ufficialmente. L'hanno definita. La vicina di Ticacotti. Siete pronti? Siete pronti? Accordiamola con un fortissimo applauso. E qui per voi. Rita De Crescenzo.